Anche quando Mussorgsky mette in campo idee tematiche diverse, l'economia di mezzi non viene meno. Esiste una terza idea correlata al volo della strega e all'idea di orrore suscitata da questo volo della strega, ma questo esempio mette assieme note che abbiamo già incontrato lungo il corso dei quadri di un'esposizione in quanto è un tipo di melodia che si può far risalire all'ethos russo. In realtà si può far risalire anche al materiale di base di Baba Yaga semplicemente invertendo gli intervalli e cambiando il profilo ritmico, in questo caso con una melodia continua e non più segmentata, come era l'idea che caratterizzava Baba Yaga nell'esempio 10A.